Oggi ragazzi siamo qui insieme alla ragazza più forte di CoralMC Ebbene sì, ho portato il primo player con più stelle e oggi invece c'è lei, ovvero la ragazza con più stelle Sono JustNubi, ho 492 stelle, sono terza per stelle su Coral, prima per Win Praticamente sei terza per stelle tra tutti quanti, però tra le ragazze sei la prima, giusto? No, la prima, sì Ok, bene, bene Vi faccio una domanda semplicissima, giusto per capire un po' meglio, da quant'è che giochi a CoralMC? Da luglio Ok, da luglio, bene, quindi un bel po' di mesi, ok, perfetto Prima di andare in partita, però io ogni volta che porto un ospite, faccio scegliere appunto a quest'ospite il numero di like Sparami un numero di like Eh, 2000 e 69 Anche te hai fissato questo 69? È un bel numero Quindi andiamo a fare la prima Bedwars e vediamo un po' come va Carica? Sì, sì, sì Apposto Prima Bedwars, ti voglio carica, dobbiamo vincere tutte e tre le Bedwars, va bene? Bene Come te li giochi delle Bedwars? Bardo e poi il Rush Bardo e il Rush, ok, vuoi che bardo io o bardi te? No, no, bardi io Guardi te, ok, tieni tutto il gold Quante ore giochi al giorno su Coral? Tante Troppo Tante, tipo? Oggi sono a quattro ore A che ora iniziate a giocare? Non l'ho capito Alle sei Perché mi sono svetta alle cinque di pomeriggio Aspetta, a che ora vai a dormire, scusami Tardi Ma aspetta, tu mi stai dicendo che devi dormire tardi per giocare a Coral? No, faccio anche altro Tipo mangio Ah, ok, beh, ci mancherebbe nel senso Tipo mangio Allora, vado a mangi a pane e Bedwars Pane e Bedwars? Sì, sì È divertente E quindi nella vita non fai nient'altro? Ogni tanto esco quando capito Ok, Gigi È figo pane e Bedwars Vorrei provarlo anch'io questa vita Da quanto è che vai avanti con pane e Bedwars? Da luglio Però hai visto intanto questo pane e Bedwars Ti ha portato a fare un video con il marchessone Se non facevi pane e Bedwars il video non lo facevi Una domanda che ti volevo fare Che mouse utilizzi? Il modello Che metodo ti clicca? In realtà so farei tutti e tre principali Però nel modello è sul normal Perché posso cliccare Cioè, in realtà è il più semplice, il più classico, ci sta Gli ho fatto il letto? Ok, uno è andato Ok, l'ho trovato Posto Ah, a posto Gigi, primo team è eliminato Gli azzurri stanno andando dai nostri diamanti in realtà Quindi vogliamo attaccarli? Vabbè, sì Sai fare qualche tipo di bridge? Ecco una domanda interessante Mi sto allenando sul god bridge Però sono a 13 blocchi, però Ok, dopo me lo flexi un po' di god bridge Ma non c'era solo Perché non c'è altri modi Vabbè, un po' di blocchi però li sai fare Eh sì, ci sono arrivati un po' di blocchi Ok, bene Ti difendo, ti difendo Ok In realtà no è andando Ok, no, lo faccio Eh, io non ho tanta vita Ok, allora, mi faccio l'altro e poi faccio sharpness Ah, poi sono andato anche l'altro Gigi, un'altra domanda che ti vorrei fare Mi hai fatto whistrick, quindi qualche record Sono a 200 di whistrick Su coral? 200 di whistrick Ah, quanto tempo ci hai messo per arrivare a 200 whistrick? Due giorni Vabbè, due giorni giocando quanto tempo? Eh, avevo fatto due giorni, 100 win al giorno Eh, nove ore Madonna Da pazzi praticamente Traumatico, sì Quindi, allora, dai un vuoto 1 a 10 a coral Sono curioso, essendo che ci giochi tutto questo tempo 8 e mezzo Una domanda figa Che in realtà non faccio mai quasi a nessuno Cosa vorresti migliorare di coral? Eh, in realtà tipo late Cos'è che vorresti migliorare in late? Eh, che tipo, danno not back stort Sì, sì Posto Ok, rimangono i rossi e i blu Dopo di loro abbiamo vinto Ok, ho fatto i letti rossi Oddio, sono in due Uno è andato A posto, a posto, a posto Devo mangiare subito il melo d'oro perché rimane il blu, eh Ok Uno è andato e l'altro anche è andato Gigi, mi sa che abbiamo proprio vinto Esattamente Minchia, ho fatto 15 kill 15 kill L'altra bad dursa Dai, questa volta bardoio Mi dispiace farti bardare Nooo Una domanda Sei targettata nelle bad dursa qui su coral? Se gioco senza use guides ho avuto anche quei cheat Delle persone che si diverte da snapperarmi sul canale Ci sono state anche delle clip pubblicate su ticlo Ah, ok, ti snapperanno proprio Ok, bene È divertente Comunque ho comprato la DMT, sono caduta Gigi, ovvio, se non ti preoccupare Ok Mi vedi solo uno? Sì, è solo uno, perfetto, vi faccio il letto Quindi vedi eliminati? Direttamente regiquitato Una domanda Ti repudi un player Una player Tossica o nel chill? No, nel chill Cioè, a me non mi flamma No, io non flamma Hai me flammato qualcuno su coral? Dai, dimmelo Sì Ok Sì, sì, sì Che perdi proprio la pazienza Ok Ho un minuto di quattro giorni Capisco Ci vuoi spiegare questo minuto? Ce lo vuoi raccontare? Ah, praticamente C'era questo qua Che mi chiedeva Di dargli il mio numero No, no Per favore Sì, sì Perché lo hanno fatto girare In giro per coral Quindi siccome lui lo sa Perché lo hanno dei suoi amici E mi spammava No E gli ha detto Disparazzi E mi hanno mutato per quattro giorni Ah, proprio così Tipo killati In real life Però Ok Sì, sì Sparati Beh, il mute è giusto Nel senso Questo player Che comunque Ti chiedeva il numero In continuazione Beh, beh Che dire Ok, mi faccio l'altro Posto Faccio screen con lui E dopo te lo faccio eliminare Tanto il letto gliele hai fatto Giusto? Vai, eliminalo Eliminalo Altro team mandato Ora rimangono Ci sono ancora i blu Dall'altra parte Che in realtà è blu Ok, allora Io sto andando verso il centro Vabbè Se perdere il mio letto Non ci sono problemi Tranquilla Ok, allora Io sto andando in base blu Oddio No, no, no Forse me lo faccio Perfetto Un blocco tutto Se è proprio buttato Se è rifiutato Prova la vita Ci provo a fare il letto Ok, non l'ho trappato Andato l'altro Ah, no, and Sono, non ci credo Nulla Oh, sono vivo Sono vivo Sono arrivato in base rossa Non so come Morto il rosso Ah, no, and sono anche loro Non ci posso credere Ok, è morto un altro Ok, è morto un blu Ok Ho preso la cappola Nella loro base Eh, no Mi stanno arrivando Morto uno Ok, vai Fagli il letto A posto Morto un altro Non posso più resistere Basta Basta C'è faccio più Morto l'altro ancora Eh, ora muoio Ora muoio Te lo fai Ci sono ancora i grigi Ma il blu Mi sta scappando Ok, Yugi Dobbiamo fare le lette rosse Posso? Morto uno Ok, allora Io vado dai grigi Il problema è che ora C'è il blu Che ci va in base Ok Mi sa dove è morto Ok L'etto è andato? Ok Un è andato Manca l'ultimo Vai, ci penso io Questa è una seconda win Ah, vuole screen Fatto screen A posto Alte 15 kill Alte 15 kill Dimmelo, dimmelo Che sono OP Dimmelo Voglio proprio sentirmelo dire Ora dobbiamo concludere in bellezza però Non c'è due senza tre Giusto? L'hai gufata Ok Ultima partita Si carica? Si Perfetto Vinceremo anche questa Giusto? Si spera No, si spera Si vince Va bene Non si gufa No, no, non si gufa Non si gufa Allora Webard rete Ultimo game Vai, ok Io vado direttamente ad attaccare Abbiamo i gialli di fianco Che possiamo attaccare direttamente Ok, stanno mettendo legno Ok Uno è andato? No, non è andato Scherzavo Però pochissima vita Martuno? Ok, gli faccio il letto io Riesci a defendermi? Ah, lascia A posto A posto A posto Eh, ho mezzo Ok Avevo mezzo cuore A posto Oh Ma che mi combini Full team così? Mi ha detto che devo essere carica per l'ultimo Esatto Gigi, ci sta, ci sta, ci sta Ecco una cosa che volevo chiederti Hai scoperto Coral come? Ah, praticamente Ogni punto pubblico su TikTok Me l'hanno consigliato Tutto Un commento Ah, ok Danno consiglio tipo Provo Coral MC E tu da lì appunto Iniziati a giocare Prima di Coral Cos'è che giocavi? Quali altri server? Ah, giocavo praticamente solo Vanilla Ah, ok Quindi io dopo ho scoperto il PvP E è arrivato Coral Pane e Bedwars Ah, tanto punto dietro Dai, mamma mia che no Perché GG Va bene Ok, è morto? No, no, non ho blocchi Non ho vita Non ho nulla Ok Eh, non ho vita Non ho più vita Ok, GG Vai, mi faccio letto Mi faccio letto L'unica cosa che ha un cuore e mezzo Non so se Che dire E io lascio il legno Vai Tu sei proprio qui Tu sei pazzissima praticamente Eh, io ci muoio No C'è un blu rimasto con Ah, l'hai killato? Perfetto, GG Vabbè, vabbè Oggi sei OP Ci sono ancora gli azzurri con il letto E ti tendo ad attaccare Che ne pensi? Io sono dei rossi Perché sono due final kill Ok Vabbè, ti provo a farti magari Ecco, le final kill Io vado dagli azzurri Allora, io ho fatto letto agli azzurri Ti faccio anche sharpness Ci sono due azzurri davanti a me E se ti fai i rossi Mi faccio gli azzurri Beh, ho vinto quest'ultimo game Me lo sai? Oh, no, gli azzurri sono Messi troppo bene Eh, niente Mi ha dato un hit Mi ha mandato da l'altra parte del mondo Ma Ci sta, ci può stare Allora, ho preso due bridge egg Non so dove Quel rosso Fireball, dimmi che cade Ok, mi sa che lo fai nel killato Sì Andate in rosso Allora, gli azzurri sono stati due qua Uno viene vinto Ok, sì, sì, lo vedo Minchia, sono chi lo col uovo Volo Oh, me lo so Mi sono tirato un uovo in faccia Ma GG Questo è morto Questo è morto per forza Sì, 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 è morto Ok, vado Manca l'ultimo Te lo fai? Dai, caccia la tua cattivelia Sono volata Non ci credo Ha un cuore Gli sputi in faccia e muore Ok, ci provo, eh Ma sta scappando, però Non ci arriva lo sputo Sto andando verso la base di rosa Faccio una tattica Faccio una tattica Fireball, blocchi Allora, io ho una fireball Da poter utilizzare Veramente in un modo ottimo Se lo utilizzo bene Lo fai nel kill E il marx è OP Però il marx è OP All'henderpearl Non è vero Non ha tirata GG Questo game è stato il più facile Credo, davvero Molto, molto chill Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video Io ti ringrazio davvero Gentilissima Per aver partecipato E sei divertita in questo video? Sì Mi ha fatto tre win Tre game Bellissimo, bellissimo, bellissimo Quindi ora ti sei Road to 500 star Sì, ne mancano otto Ok, in quanto pensi di arrivare a queste 500 star? Anche domani Lei è così tranquilla Cioè, io faccio una stella all'anno Lei domani si fa 28 stelle Io faccio cinque al giorno Cinque stelle Vabbè, ragazzi Lei veramente Pane e Bedors è vero allora, eh Naturalmente Raggiungiamo i 2069 like che ha richiesto lei E noi ci vediamo alle 15 domani con un nuovo video Noi vi salutiamo Bella Noi vi salutiamo i 2069 like che ha richiesto lei